Carlo Canebba! ...disco del momento la radio ascolterà ciao va bene, scine, scine, scine scine come sei? ah, un bello pezzo che non ne veremo eh, tua moghiero come è? tu a posto? va bene, ne veremo dopo, fai sì no, fai, giunato e perché te la chianaste? salve buonasera, buonasera a tutti bene il disco del... ora stai tre ore ho deciso di rimanere tre ore di non andare sì, non mi interessa no, mi interessa no, veramente, stavo pensando una cosa stavo pensando come adesso tutti questi ragazzi giovani che cercano di cantare il nostro amico penso che alla fine della puntata c'è uno motto, droga rustuto come sta bene? piacere, salve potrebbe stare... senta, vuole qualcuno c'è la ciuscia? e vuole vedere... se prendiamo una bella signorina che ce la facciamo ciusciare vero? di dove è lei? di dove è lei? Napoletano ah, vuoi come affa? uofa no uofa allora, no, dicevo io il signore che non abbiamo più 10 anni manco 20 e manco 30 e neanche 40 io neanche 50 lei non lo so perché li porta benissimo non si capisce ma io non ho neanche 50 anni quando si era giovane c'era il corteggiamento cioè quando... oggi non lo so ma una volta tipo io, quel signore con i capelli brizzolati chi stucca la digna con l'occhiale e poi chi c'è? quel signore con il ducotone nella testa a basta che non c'era mamma in gruppo e c'era una carruzza sola mischina se ne va a sentire tutti i colori perché a gruppo i maschi diventano zaurdissimi a cominciare a fare un bari io a chiedere un bari io a pennissi io a... di tutto di più appena restano soli diventano tante pagliola mi ricordo che eravamo al mare io con altri 4 ragazzi appena in un certo momento c'era una bella signorina che se stava leggendo un libro stava pigliando solo chi c'era tutta tranquilla i miei amici in me rag sigh ah mi sguardo e mi chiede a vedere se c'è questa cottia. A me. Che già non guardava di sé. Figure di yoga. Se stavo leggendo un libro, se ci dico che ora è, è banale, già si capisce. Se ci dico che libro stai leggendo, la signora mi diceva, se non vuoi dire che libro stai leggendo, c'è bisogno che tu ricordi. Allora mi diceva, ma che faccio, che faccio, che faccio? Mi pigliai di coraggio. Educatamente mi diceva, signorina, mi scusi, si vuole fare un bagno con me? La signorina educatamente mi diceva, senta, giovanotto, non posso perché ho le mie cose. Atalia diceva, signorina, ma che problema c'è? Ci tengo io, non si preoccupasse. Ora, nel frattempo, nel frattempo che io c'era questa discussione, in acqua si vedeva un palloncino con una bandiera rossa. Di solito lei che è una informata, che cosa c'è là sotto? Bravo, un sub. C'era un sub, bravo il mio amico, che stava a furriano sotto acqua. Arrivato a un certo punto, vedi che c'è un bello puppo. Arrivato a un certo punto, vedi che c'è un bello puppo. Chi stava a puppo? E questo è un sub. Il puppo si accorge che c'è un sub che sta a seguitarlo. Il puppo è tutto scantato, dice, marzo, marzo, come hai a fare? Guarda chi mi ammazza, l'ha ammazzato, sono disgraziato, come faccio? E comincia a scappare. Come scappa il puppo? E il sub che ci va da presso. Allora, a un certo punto, il polipo ha trovato una roccia, si ficca da inza, ma non ci c'è tutto. Resta un po' inza e un po' fuori. Un sub che mi ammazza, senti, non te scappi perché la tua fine è vicina. Un buppo è un beccato che mi dà scocchi… call dejen la fine che hai a fare. Un sub prende la prima fiocina, mira spara mi sa vai mi sa vai ma c'è quella priare santo pupo vergine martire aiutami tu seconda fiocina lo mira Maria mi sa vai magari questa volta di solito ce n'hanno tre fiocine ce n'ha resta una un sub comincia a ingazzare ma questo pupo mi deve fregare terza e ultima fiocina il sub mira il pupo ne esce dalla roccia comincia a fare come una pazza il pupo comincia a correre come un pazzo tutto contento il sub è ingazzato il pupo si gira e guarda il sub e ci fa sub ora che siamo tu senza fiocina ti ho fregato a te 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 ora il polipo finalmente c'hai un gelato? il polipo finalmente incontra una polipa si innamorano fanno dei figli il polipo e la polipa che nascono il polipo e la polipa nascono i pupetti con Mattia giusi e la polipo si innamorano si innamorano si innamorano si innamorano si innamorano